Carissimi dreamers, ben ritrovati su Maximize Business, sognatori e sognatrici di una vita finanziaria migliore Eccoci qua, è passato un po' di tempo, non sono stato molto bene, questa pandemia ha fregato anche me questa volta però per fortuna niente di grave, quindi non ho potuto fare update perché ero completamente senza voce è una faccia poco presentabile, ma al di là di questo era d'obbligo fare oggi questo veloce update su vari aspetti vediamo un attimo quello che accade, fondi che escono, regolamentazione dell'Europa, fallimento di triarov, liquidazione vediamo altri aspetti riguardanti le liquidazioni in corso, potenziali vediamo un attimo come ci troviamo a livello di schema riguardante Bitcoin, quindi le criptovalute in generale come si sta evolvendo il discorso delle manipolazioni, quindi dei flussi che entrano ed escono per cercare di attuare il miglior modo possibile le loro modalità tecniche di investimento in modo che possano sempre avere profitto, come abbiamo visto sempre nei video precedenti secondo le teorie smart money e andiamo a vedere anche altri aspetti, non voglio fare un video lunghissimo quindi cercherò di concentrare tutto il possibile ci vediamo subito dopo la sigla, restate con me eccoci qua c'è da dire che a quanto pare le banche centrali non ci stanno capendo una mazza nemmeno loro così a quanto pare insomma poi non sapremmo mai veramente quello che gira dietro questi incontri e queste riunioni che fanno però a quanto pare hanno affermato Paolo stesso ha affermato che stanno cercando di capire meglio anche loro quello che questa situazione di economica mondiale sta portando o porterà quindi non sappiamo ad oggi se il mondo che definiamo blockchain, bitcoin, cripto possa giocare un ruolo da protagonista o anche da panchina nell'attesa di entrare e segnare un gol quindi siamo in una situazione molto particolare oltre al fatto che potrebbe essere un momento interessante per fare magari un po' di dollar cost average quindi accumulare per chi è investitore per chi crede investe in progetti di cripto o in bitcoin o in quello che studiate e vi rendete conto di che possa essere diciamo qualcosa di concreto che abbia valore e che risolva problemi nel mondo reale oggi e nel futuro e quindi non consigli finanziari ovviamente sempre un invito a a studiare e ad analizzare quello che accade insieme a me ad altri da soli come vi pare partiamo dopo questo preambolo partiamo da come sempre dal grande schema che porto di video in video ormai ho adottato questa formula vedo che a molti piacere molto utile quella di utilizzare uno schema quindi un filo conduttore che poi lega un po' tutto lo svilupparsi dei video consecutivi un'altra cosa a cui ci tengo spesso e volentieri consiglio alle persone o comunque alle persone della community o amici di non stare continuamente a pensare agli investimenti alle cripto eccetera ma andarsi comunque a godere la vita perché questa è la cosa l'investimento più grande che abbiamo è sicuramente la nostra vita le persone che ci vogliono bene e a cui vogliamo bene è passare il tempo con loro e non pensare a volersi arricchire a diventare subito ricchi perché questo è l'avidità che porta le persone poi a fare errori e ne abbiamo parlato nei video precedenti sulla gestione delle emozioni sui cicli psicologici gli errori che si fanno quando in realtà si va a comprare nei momenti di euforia quando il mercato è in alto e quando i grandi vendono e si va invece a vendere quando è tutto giù e quindi io potrei dirvi oggi non credo più nelle cripto ma invece non è così perché magari molti in questo momento non ci stanno credendo più e stanno dismettendo i propri investimenti che siano magari appena in perdita o quasi in perdita ma vedremo questo discorso a breve perché intanto partiamo da due notizie questo è abbastanza recente a quanto pare la comunità europea ha deciso di confermato che la normativa sulle cripto verrà inclusa la regola per cui ogni trasferimento da un exchange a un altro privato superiore ai 1000 euro dovrà essere monitorato e dichiarato ovviamente anche giustificato questo è quello che viene fuori da questo report in cui si... come vediamo vediamo un po' se riesco a sottolinearlo in qualche colore eccolo qui, no, ho sbagliato vabbè, comunque quello che volevo dirvi è che i trasferimenti appunto verranno tracciati identificati per prevenire il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, altri crimini, bla 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 quindi questo è quanto emerge da questo report e... ci sono... cioè ovviamente la notizia che avrete già sentito da... da diverse voci il fondo Arrow Capital che... che si è... diciamo che... che precipita nella liquidazione perché ha fatto ovviamente degli investimenti non coperti molto rischiosi probabilmente su... probabilmente c'entra anche Terra Luna potrebbe entrarci Celsius comunque a quanto pare è sull'orlo o se no probabilmente è stata già caduta in liquidazione e quindi si è fatto avanti il CEO di FTX della Meda per diciamo aiutare questa situazione qui diciamo che si sta... si sta facendo avanti e sta cercando probabilmente di sostenere questo mondo ma anche di... approfittare per acquisire... per acquisire delle entità che probabilmente potrebbero dargli vantaggio successivo gestiti in un modo diverso ovviamente da quello con cui... in modo rischioso in cui è stato gestito precedentemente ma queste sono notizie che... diciamo... possono più che altro farci capire la situazione attuale che è una situazione che... come vediamo prevede una forte uscita di fondi e... di fondi... vediamo... come abbiamo visto nelle settimane precedenti e anche il mondo della... della DeFi... della Cefai hanno subito un crollo eh... ansia di liquidità... di market cap e... in questo momento ovviamente molti... molti capitali... molte persone hanno ritirato quello che avevano dalle piattaforme DeFi io vi posso dire personalmente senza consigli finanziari come sempre quello che... che io utilizzo... le piattaforme che utilizzo da tempo eh... e che continuo ad utilizzare per quali motivi? per... i motivi che vi spiego a breve innanzitutto Smosis è una piattaforma che ho iniziato ad utilizzare quando è nata perché... ehm... attraverso il... l'hold di Atom quindi la detenzione nel wallet di Atom che avevo già da... da quasi due anni nel mio wallet ho ricevuto l'airdrop di una... di una serie di... di altri token e... che io ho messo a rendita ho lasciato a rendita su questa piattaforma piattaforma Osmosis per chi non lo sa ho fatto anche altri video che vi invito a andare a vedere fa parte dell'ecosistema Cosmos quindi è la piattaforma attualmente più grande, ufficiale dell'ecosistema Cosmos piattaforma DeFi ehm... che è un... ci sono tutti i link magari andateli a vedere è la piattaforma che permette appunto alle... alla creazione e sviluppo di ulteriori blockchain che possono essere tra di loro interrelazionate collegate quindi sappiamo che anche Binance anche Crypto.com ehm... anche Terra era sviluppata su... 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 su Cosmos Torchain e così via quindi... ehm... diciamo che questa... ehm... il team di sviluppo di... di... di Cosmos è... è molto 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 forte questo non toglie il fatto che magari possa avere problemi possa essere achierata eccetera però è molto focalizzata sullo sviluppo e molto meno nel marketing ehm... ovviamente non vediamo mai questi personaggi molto carismatici come su Cardano come era su Terra come potrebbe essere su altri progetti dove il team di sviluppo il leader carismatico ha questa capacità di portare ehm... l'attenzione il marketing e quindi gente e capitali su di loro nonostante poi sotto il sottostante non sia abbastanza maturo oppure abbia tempi di sviluppo delle promesse fatte molto più lunghe ehm... però prima raccolgono i capitali giocando molto sul marketing eh... questa è una cosa che devo riconoscere a Osmosis a Cosmos e quindi a tutto il team di sviluppo Atom ehm... non... non è mai accaduta tanto che non si... non chiesero nemmeno di essere quotati su Binance fu lo stesso CZ che... ehm... che volle quotarli proprio per... come premio e del fatto che non... non si sono mai fatti avanti nonostante sia un progetto super super forte quindi detto questo insomma... eh... per ora la... la ritengo ancora una piattaforma molto molto interessante non ho inserito fondi miei eh... di mia tasca ma ovviamente all'interno ci sono solo gli airdrop che mi sono stati regalati eh... da questi progetti eh... che come vedete anche in altri video vi... vi faccio vedere come... eh... come andare a fare il claim di... di... di questi progetti qui ehm... un'altra piattaforma che uso ormai da anni da quando si chiamava ETH Land è AVE e... è una piattaforma che... eh... diciamo è stata anche... non so se attualmente lo è ancora però possiamo vedere su DeFi Pulse ehm... una delle piattaforme... forse la prima è stata in un periodo più grande a livello di market cap adesso forse sarà la terza la quarta... ecco la quarta e... molto molto attenta molto eh solida fino ad oggi e non ha... diciamo non ha avuto così tanta hype come altre piattaforme proprio perché non eh... per una questione proprio di sostenibilità non promettono permettevano grossi rendimenti a livello di... ehm... ehm... di... 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 di percentuali di rendita ovviamente ehm... in questo caso io ho tenuto per un periodo i miei tokennave in... ehm... in staking e avevo provato a fare dei landing così per vedere un po' come funzionava e devo dire che ero molto 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 soddisfatto poi li ho anche tolti eh... dallo staking perché comunque c'erano i 21 giorni di redeem eh... come sempre in quasi tutte le piattaforme di DeFi e quindi ho preferito tenermeli nel wallet in casa volessi cambi... avessi voluto cambiarli però poi in realtà sono un odler di vecchia data e continuano a tenermeli perché credo fortemente in questo progetto DeFi e... ehm... quindi vi invito comunque sempre a fare... a fare studi a non andare dietro alle piattaforme che danno rendimenti stratosfetrici perché eh... vedete come è andata a finire insomma è molto facile che... che questi... dove c'è grande rendimento c'è grande rischio sempre quindi se volete investire investite sempre con molta 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 cautela e... andiamo a vedere insieme adesso cosa è accaduto a livello di analisi ah... vi faccio un attimo un piccolo recap sull'oggi è l'ultimo giorno per partecipare all'estrazione il 2 luglio quindi sabato che farò in una diretta live alle 14 del pomeriggio in cui estrarò due mail la prima vincerà il cappellino la seconda la maglietta dallo shop che ho creato di t-shirt e altri gadget ad esempio come questo in liquid we got it in cui potete fa tempo a... approfitto per bere in cui è possibile comprare delle magliette con grafiche che realizzo io o dei miei amici e anche per sostenere il canale e però volevo regalare a chi si iscriveva alla mailing list alla mailing list del sito per far partire una newsletter appena arriveremo a un certo numero di persone oppure a sostenermi su Patreon dove spesso pubblico articoli o video solo per chi è abbonato e quindi per chi mi sostiene su Patreon come ad esempio l'ultimo che ho pubblicato un articolo sull'indicatore Ash Ribbon che adesso andremo a rivedere eccetera eccetera quindi libri consigliati li trovate sempre in descrizione su Smart Money su tutto quello di cui parlo in descrizione di ogni video quindi cliccate lì ci sono i link di Amazon che potete comprare la mailing list è su www.maximaesvisa.com trovate tutto sulla descrizione del video andiamo adesso a vedere cosa è accaduto nel frattempo eravamo su questo grafico insomma ancora a fine maggio in cui stavamo cercando di capire se la situazione poteva evolvere era poco prima del patatrack avvenuto su tutti i mercati finanziari se poteva evolvere in termini di accumulazione o di redistribuzione ovviamente come sappiamo la seconda ipotesi è quella che è andata in porto infatti ho cancellato ho messo la X sulla ipotesi di redistribuzione che non si è avverata all'interno di questa manipolazione di questa manipolazione di questa manipolazione Wyckoff che è avvenuta nel periodo di maggio e successivamente abbiamo assistito quindi a questo fenomeno quindi siamo andati esattamente qui come avevo indicato nel disegnino precedente siamo andati esattamente qui a seguire poi il... a seguire... no, questo è troppo brutto come... a seguire questa... questa discesa per poi rientrare su un'altra lateralizzazione che è quella che stiamo affrontando in questi giorni infatti se vedete qui eravamo sul... eh... l'ultimo punto di... 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 di Climax Supply l'automatic rally quindi questo... eh... sono i punti in cui inizia... eh... c'è uno sbilanciamento e quindi inizia la lateralizzazione andiamo su... sulla situazione attuale ed eccoci qua vediamo un po' se ribecco il grafico eccolo qui esattamente questo ok vediamo che si è compiuta la prima... la prima onda la seconda onda e stiamo andando entrando per la terza onda allora ho fatto qualche giorno fa un... no, anzi... sì, l'altro ieri ho fatto un video solo per la community Telegram che è questa qui quindi vi invito anche a seguirmi su Telegram ogni tanto posto dei video privati solo per la community eh... in cui andavo ad analizzare il punto di supporto eh... quindi il bottom eh... dove probabilmente siamo arrivati eccoci qua andiamo a rivederlo insieme eh... sono partito dalle considerazioni fatte sul grafico che spesso vi mostro che è quello diciamo vediamolo in logaritmico perché è molto più facile individuare poi eh... i periodi eh... vediamo quello con cui ho segnato anche tutti gli halving è questo qui eccolo qui mettiamo così ok e stavamo facendo un ragionamento su quello che può essere eh... all'interno di questo contesto di... in cui i grossi capitali tirano indietro quindi vediamo che c'è una forte discesa della market cap in tutti i mercati e... quindi anche fortemente in quello crypto che è molto più volatile come sappiamo e... vediamo che questo questa parte questo momento che abbiamo trovato questo supporto che abbiamo trovato sui 18 17.500 insomma il bottom più basso che abbiamo trovato è stato vediamo un po' se ci fa vedere anche come linee massimo, minimo e medio eccolo qui eh... 17.500 eh... diciamo siamo in procinto del... 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 che parte dal secondo halving questo per me è un punto molto forte nel senso che è una una base molto forte perché perché negli halving precedenti ve ne ho parlato anche in altri video e... non è mai stato io... ho tracciato dei VWAP che il... come vi ho spiegato il... 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 medio di perdita o di guadagno quindi se siamo su da questo halving in poi eh... chi ha comprato da questo halving in poi è stato sicuramente in guadagno fino al... fino all'incrocio del VWAP eh... per poi andare in perdita ovviamente dal 2 maggio in poi eh... quindi mediamente sono... la media eh... purtroppo è in perdita dall... dall'ultimo halving a oggi però... non è in perdita ancora la media del... degli acquisti fatti eh... complessivamente da... dall'halving precedente quindi parliamo del duemila... eh... duemila... duemila... duemila sedici eh... ed non è mai successo nel... negli halving precedenti che il prezzo scendesse sotto il VWAP del... dell'album precedente finora non è mai successo ehm... perché? perché significa che praticamente andremmo in perdita da praticamente 8 anni indietro eh... cioè anche chi ha investito 8 anni fa e non ha fatto profitto ha tenuto potrebbe andare in perdita da quel momento in poi ok questa è una media ovviamente però è un livello abbastanza forte quindi eh... diciamo che questo questi quindici sedicimila sedicimila dollari eh... oltre ad essere comunque questo un... i ventimila dollari sono un... un punto abbastanza significativo perché è stato il... il massimo raggiunto nel 2017 ventimila dollari sembrava veramente the moon all'epoca sembrava incredibile e... e quindi come vediamo appunto da... da forte resistenza però stiamo a vedere nei prossimi giorni cosa accadrà ci potremo aspettare io mi posso aspettare eh... eh... un... un... un supporto sui 13.000 perché eh... anche qui diciamo siamo su livello psicologico molto forte che questo ultimo picco ha avuto nel 2019 prima della discesa del baratro e del covid insomma 3000 e qualcosa per poi eh... risalire quindi ehm... mi aspetto che questo possa essere una buona base per ripartire e eh... se andiamo a pensare al fatto che vediamo qui avevo messo un'immagine abbastanza significativa della... queste sono le manipolazioni che stavo analizzando nei video precedenti siamo ancora in gioco e... quindi seguitemi cliccate sul like campanellina guardate magari quelle che sono le mie analisi ovviamente se siete d'accordo se non siete d'accordo scrivetelo sempre nei commenti con la massima educazione e il massimo rispetto nel senso reciproco perché ovviamente non è che... cioè questo è un mio modo di analizzare il mercato che è un modo un po' particolare e molto diverso da quello che vedete solitamente su... su... su youtube o comunque dagli analisti che leggete ehm... io stesso faccio difficoltà a trovare analisi smart money di questo tipo perché veramente cercare di andare dietro e e vedere cosa accade dietro le quinte per poi determinare quella che è l'analisi al di là delle linee dell'analisi tecnica anzi soprattutto perché i grandi capitali eh... utilizzano eh... l'analisi tecnica per capire dove la maggior parte di... di trader o di investitori sono posizionati e prendendo profitto grazie a questi quindi intascandosi i loro soldi ehm... questo è il... di cui vi stavo parlando adesso è uno schema di... quello che il... non è nemmeno recente del 2018 quindi... l'ho trovato così al volo su internet prima di fare il video e le avevo postato anche su... sul... sul... sul canale Telegram e quello che... effettivamente è la capitalizzazione di investimenti eh... questo è il mercato stock no? nel 2018 era 67 trilioni ehm... questi sono i soldi fisici questa è la capitalizzazione dell'oro questi sono il... i dollari in circolazione questa è la capitalizzazione della Apple un trilione questo è Amazon ok... questo è... tutte le... le criptovalute quindi... ehm... questo è Jeff Bezos questo è Bitcoin adesso ovviamente molto cambiato posso anche andare a cercare un... un diagramma più aggiornato ma non perdiamo tempo comunque solo per farvi vedere che... dove siamo e cosa potrebbe accadere se... solo un 1% un 5% un 10% entreranno in cripto dopo o durante questa crisi ehm... in questo momento di inflazione questa crisi mondiale eh... eh... significa che questo porterebbe la capitalizzazione cripto a dei livelli molto alti cosa significa questo? tornando al grafico eh... una... un aumento della capitalizzazione di mercato ovviamente corrisponde a... un aumento del... del valore di Bitcoin ovviamente Bitcoin eh... è un bene limitato perché ce ne abbiamo come sappiamo una... una quantità abbastanza limitata no? quindi... come abbiamo visto negli halving precedenti che... ha denotato una prima parte eh... in... in picco per poi ridiscendere e può risalire nella prima parte dell'halving successivo potrebbe succedere questo anche nelle... negli halving successivi potremmo vedere ovviamente qua stiamo parlando di livelli eh... eh... superiore ai centomila trecentomila cinquecentomila un milione e così via quindi la... l'halving successivo al duemila ventiquattro potrebbe essere un teatro di questa ulteriore... ulteriore... ehm... ipotesi ammettendo che questa canalizzazione continua ad avvenire come... ehm... come è accaduto all'interno se vediamo eh... l'SP500 o comunque gli indici dove sono vediamo un po' eccoli qua ehm... eccoli qua dell'azionario eh... che ha seguito nel corso degli anni dei decenni eh... esattamente una canalizzazione perché? perché nel corso dei decenni gli investimenti hanno continuato ad entrare ovviamente ci sono stati periodi eh... di crollo come accade fisiologicamente eh... però hanno continuato ad entrare perché ehm... progressivamente negli anni eh... nascono nuove aziende eh... i capitali continuano ad entrare vengono fatti nuovi investimenti nascono nuove invenzioni nascono nuove aziende eh... nuove invenzioni nuovi capitali eh... nasce Amazon nasce Apple nascerà nasce SpaceX nasceranno nuove cose quindi ovviamente i capitali continuano continuamente ad entrare nel mercato tecnologico ed è così che l'indice è sempre in crescita allo stesso modo l'industria che si sta sviluppando intorno alla blockchain che rappresenta molto probabilmente già lo è il futuro eh... tecnologico eh... per quanto riguarda anche la finanza soprattutto e... può sicuramente rappresentare un... un modello simile, no? quindi questa canalizzazione che continuerà e continuerà e continuerà portando il valore di Bitcoin a livelli molto superiori considerando che... che è un... che è un... che è un bene se vogliamo chiamarlo così eh... di una quantità finita eh... esatta quindi meglio del loro eh... come vi ho detto all'inizio ho fatto sul Patreon anche una pagina un articolo sul... di cui parlavo anche in qualche video precedente e... quello che sta accadendo adesso e lo aspettavo ormai da molti mesi è il... il momento di capital... eh... di capitolazione infatti in questo momento inizia a essere non più conveniente per i miners la share rate inizia ad abbassarsi eh... il valore di Bitcoin si sta abbassando quindi si configura di nuovo questa situazione che vado a ingrandire per cui eh... questo indicatore a Shribbon che nel passato ha sempre acceso il suo pulsante buy considerando dati on chain dati volumetrici dati di prezzo eccetera eccetera e... indicando il momento in cui eh... secondo questa... questi calcoli secondo questa analisi è il momento buono per acquistare che è il momento appena successivo alla fine della capitolazione dei miners quindi eh... ci sono questi su... questo susseguirsi di eh... cerchi verdi eh... fino a che il... il momento di capitolazione finisce a quel punto si accende il... l'indicatore blu e quello è il momento in cui eh... fino... fino ad oggi eh... questo indicatore indica che è un buon momento per comprare ed è quello che anch'io in parte sto aspettando per il prossimo ciclo ehm... cos'altro vi volevo dire vediamo un po' se ho detto tutto vi ricordo di nuovo di sostenermi se volete se vi va su Patreon o semplicemente scrivendovi alla mainlist che non vi costa niente Patreon addirittura due euro al mese quindi un caffè due caffè se vogliamo dirla così con tutti i contenuti che posto eh... solo per chi... solo per ringraziare chi mi... chi mi sostiene lì eh... non faccio tantissimi video non sono uno di quelli youtuber che fanno video giornalieri anche perché eh... ho veramente molto da fare sto lavorando a tanti progetti eh... e questo diciamo non mi permette di fare video giornalieri ma anche perché la tipologia di analisi che faccio io non richiede un video al giorno dove magari non c'è poco da dire bisogna inventarsi cose che magari non... non hanno senso solo per fare un video non è la mia modalità ma mi piace fare anche video settimanali o dieci giorni e darvi comunque qualche contenuto qualche spunto in più che può essere interessante o diverso da quello che che solitamente vi viene vi viene proposto quindi vi ringrazio di essere stati con me anche in questo eh... video update vedremo prossimamente come continuerà ad evolversi questa situazione qui cercherò di fare un video magari la settimana prossima a parte che sabato ne farò uno per l'estrazione del cappellino della maglietta quindi continuate ad iscrivervi tra oggi e domani poi chiuderemo e faremo questa estrazione con un software automatico su... online e... vediamo come si continuerà a... ehm... ad evolvere questa situazione se avremo una riaccumulazione che porterà a una nuova fase di markup ehm... con l'ingresso di nuovi capitali freschi o se continuerà la food continueranno magari le cattive notizie continuerà la paura dei mercati e quindi un fuggi-fuggi dei capitali e questo significherà che... eh... dovremo attendere ancora un po' prima di... di vedere qualcosa di più... di più sostanzioso vedere... rivedere salire eh... eh... su nuovi... su... su livelli di prezzo superiori per ora stiamo seguendo questa situazione vediamo se si concretizzerà questa manipolazione che potrebbe vedere eh... fuori da questo... campo da gioco una presa di liquidità qui su con la speranza ovviamente l'illusione che il mercato stia risalendo quindi tanti compratori che entreranno qui che resteranno intrappolati qui ovviamente senza... ehm... senza possibilità di uscita se no... se non vendita in perdita quindi diventare controparte di chi sta shortando in quel momento e... continuare questa lateralizzazione per poi prendere una direzione in alto o in basso verso i 13.000 i probabili 13.000 ah... c'era una cosa importantissima che volevo farvi vedere è riguardante proprio i 13-14.000 questo sito blocca analitica vi metto magari il link eh... fa vedere che... mh... quali sono le quantità di capitali che andranno in liquidazione e... a quali livelli di prezzo vediamo che qui c'è eh... eh... un... un blocco di liquidazione di 232 milioni di dollari eh... sulla linea dei 13.759 quindi dai 14.000 in giù e questo significa che passeranno di mano ci... ci saranno probabilmente eh... in adempienze che porteranno alla vendita immediata eh... quindi passeranno di mano a chi ha prestato il denaro eh... a chi ha fatto ovviamente il prestito e... che verrà liquidato e qui probabilmente vedremo vedremo una forte vendita anche a questi livelli qua probabilmente questo potrà portare il prezzo a scendere ulteriormente staremo a vedere cosa succederà in quel periodo non si possono fare previsioni proprio perché ci sono tutti questi elementi che mano a mano concorrono come diceva Wyckoff bisogna vedere quello che il mercato sta dicendo in questo momento esatto e non quello che gli altri ci dicono del mercato o le previsioni che fanno perché non si può prevedere l'unica cosa che sappiamo è che i grandi capitali giocano spesso questa partita lo vediamo ve lo faccio vedere costantemente come giocano questa partita ve lo faccio vedere sempre eh... se mi seguite lo vedete sempre e giocano costantemente questa partita qui perché questa è la partita che gli permette di avere il maggior vantaggio eh... per fare profitti ok? a loro non interessa grandi capitali grandi fondi non interessa arrivare a 100mila loro fanno grossi profitti anche a 5mila 10mila 15mila 20mila e quindi non è come noi che speriamo compriamo Bitcoin speriamo che arrivi a 100mila per fare cassa e quindi è tutto un altro gioco quindi bisogna sempre stare attenti e conoscere queste cose qui io cerco di portarvele quindi spero che restiate con me anche nei prossimi video iscrivetevi e... mi fa molto piacere avervi nella nella community parliamo di tante cose molto interessante e soprattutto vi voglio molto bene perché insieme siamo dreamers e questo significa che siamo sognatori di una vita finanziaria migliore e... i sogni devono essere realizzati e possono essere realizzati se non abbiamo questo sogno sicuramente non accadrà se ce l'abbiamo siamo sicuramente posizionati bene perché abbiamo qualcosa da realizzare abbiamo un obiettivo e... le cose si organizzano nella nostra vita nella nostra mente nelle azioni che compiamo affinché questo avvenga quindi continuiamo a crederci sempre vi ringrazio ci vediamo presto ciao dreamers ciao